Il teorema di Pitagora è uno dei teoremi fondamentali della matematica e si applica esclusivamente ai triangoli rettangoli. Il suo enunciato dice che in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Prima di entrare nei dettagli definiamo i termini principali. L'ipotenusa è il lato opposto all'angolo retto. Si tratta del lato più lungo del triangolo rettangolo. I cateti sono i due lati che formano l'angolo retto. Matematicamente, se indichiamo i cateti con B e C e l'ipotenusa con A, la formula del teorema di Pitagora è A alla seconda uguale B alla seconda più C alla seconda. Questa formula ci permette di trovare la lunghezza dell'ipotenusa se conosciamo le lunghezze dei cateti, oppure di calcolare la lunghezza di un cateto se conosciamo quella dell'ipotenusa e dell'altro cateto. Vedremo tra poco tutte le formule. Ora diamo un'interpretazione grafica del teorema. Disegniamo un triangolo rettangolo e poi costruiamo i quadrati sui cateti, cioè dei quadrati che hanno come lato la misura dei cateti stessi, e poi il quadrato sull'ipotenusa. Il teorema ci dice che l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Prendendo come unità di misura un singolo quadratino, notiamo che il quadrato che ha come lato l'ipotenusa ha un'area di 25 quadratini, mentre i quadrati costruiti sui cateti hanno area rispettivamente di 16 quadratini e 9 quadratini. Questa non è una dimostrazione rigorosa, ma ci mostra qual è il significato dell'enunciato del teorema. Quello che più ci interessa del teorema sono le formule, che ci permettono di ricavare uno qualunque dei lati del triangolo rettangolo, conoscendo gli altri due. Partiamo dall'ipotenusa, che si ottiene prendendo la radice quadrata della somma dei quadrati dei cateti. Questa è forse la formula più conosciuta della matematica. Se invece vogliamo trovare la misura di uno dei cateti, conoscendo l'ipotenusa e l'altro cateto, dobbiamo prendere la radice quadrata del quadrato dell'ipotenusa meno il quadrato dell'altro cateto. Queste sono le formule che ci serviranno durante gli esercizi. Quindi bando alle ciance e vediamo subito il primo, molto semplice, in cui ci viene chiesto di trovare l'area di un triangolo rettangolo. Di questo conosciamo l'ipotenusa e un cateto, e per calcolare l'area abbiamo bisogno dell'altro cateto. Richiamiamo le formule che abbiamo appena presentato. In questo caso, riferendoci al piccolo triangolo di lati AB e C, conosciamo A e C e dobbiamo trovare B. Dobbiamo applicare la formula B uguale radice di A alla seconda meno C alla seconda. Applichiamo il teorema. B è il lato AC. Sarà uguale a radice di BC alla seconda, il quadrato dell'ipotenusa, meno AB alla seconda, il quadrato dell'altro cateto. Ora non resta che sostituire i valori e fare i calcoli. Sostituiamo i valori numerici, facciamo i quadrati, facciamo la differenza e poi prendiamo la radice quadrata. Otteniamo questo risultato. Quindi il cateto mancante misura 12 cm. Ora, per trovare l'area del triangolo, dobbiamo applicare la nota formula base per altezza diviso 2, che per un triangolo rettangolo si può scrivere come prodotto dei cateti diviso 2. E questo perché i cateti possono fare entrambi da base o altezza. Facciamo i calcoli. Sostituiamo le misure dei cateti, semplifichiamo 2 e 12 dividendoli per 2 e infine facciamo il prodotto tra 5 e 6. L'area di questo triangolo è 30 cm quadri. Nel prossimo esercizio conosciamo le relazioni che esistono tra i cateti e ci viene chiesto di trovare la misura dell'ipotenusa. Segniamo i dati. AB più AC uguale 40 cm e AB è i due terzi di AC. Abbiamo supposto, dal disegno, che AC sia il cateto maggiore. Questo tipo di problemi sono molto frequenti, risolverli è piuttosto semplice. Per calcolare la misura dei cateti partiamo dal fatto che AB è i due terzi di AC e visualizziamo graficamente questo. Disegniamo un segmento che rappresenta la misura di AC che non conosciamo. Dividiamo questo segmento in tre parti, i terzi appunto. Quindi scegliamo come unità di misura dei nostri calcoli un terzo della misura di AC. I due terzi di AC, quindi due delle parti in cui lo abbiamo diviso, sono pari alla misura di AB. Rappresentiamo a parte AB che ha una lunghezza di due unità. Ciò significa che la somma di AC e AB ha una lunghezza di 5 delle nostre unità. Ma poiché conosciamo qual è la lunghezza della somma di AC e di AB possiamo facilmente trovare la misura dell'unità. Infatti AC più AB è uguale a 5 unità e queste 5 unità misurano in totale 40 centimetri. È facile trovare la lunghezza di una singola unità dividendo 40 per 5. L'unità misura 8 centimetri. Allora AC misura 24 centimetri, 3 unità per 8 centimetri per unità e AB misura 16 centimetri. Trovate le misure dei cateti, è molto semplice ricavare la misura dell'ipotenusa applicando il teorema di Pitagora. Infatti BC, l'ipotenusa, è uguale alla radice della somma del quadrato di AB e del quadrato di AC. Sostituiamo i valori numerici, facciamo i quadrati, facciamo la somma e poi prendiamo la radice quadrata. Otteniamo un numero con la virgola, 28,8 centimetri. Finora abbiamo trattato triangoli, ma nel prossimo esercizio avremo a che fare con un quadrilatero. Un quadrilatero che, come possiamo vedere dalla figura, è formato da due triangoli rettangoli. Quando si affrontano questi problemi di geometria, è molto utile cercare di scomporre la figura in figure più semplici, a cui possiamo applicare risultati noti. Il triangolo rettangolo è una di queste. Per calcolare il perimetro del quadrilatero ABCD, dobbiamo ricavare la misura del lato CD. La strategia è semplice. Calcoleremo per prima cosa la diagonale AC, che è l'ipotenusa del triangolo rettangolo ABC, e poi troveremo facilmente CD, che sarà un cateto del triangolo rettangolo ACD. Iniziamo con l'applicare il teorema di Pitagora al triangolo ABC. Poiché AC è la sua ipotenusa, dovremo calcolare la radice quadrata della somma dei quadrati di AB e BC, che sono i due cateti. Sostituiamo le misure dei cateti, calcoliamo i quadrati, facciamo la somma e poi prendiamo la radice quadrata. AC è uguale a 25 cm. Ora che abbiamo trovato AC, possiamo applicare nuovamente il teorema di Pitagora, questa volta al triangolo ACD, per trovare il cateto CD, lato mancante del quadrilatero ABCD. In questo caso, poiché CD è un cateto, dovremo calcolare la radice di AD al quadrato, l'ipotenusa, meno AC al quadrato, l'altro cateto. Anche qui sostituiamo i valori numerici, facciamo i quadrati, facciamo poi la sottrazione e calcoliamo la radice quadrata. In questo caso otteniamo 12,6 cm, approssimando ai decimi. In questo caso la misura del cateto non è perfetta, perché 159 non è un quadrato perfetto e allora possiamo ottenere una cifra dopo la virgola. Ora che abbiamo trovato CD, è piuttosto semplice trovare il perimetro del quadrilatero, dato dalla somma di tutti i suoi lati. AB più BC più CD più AD è uguale a 7 cm più 24 cm più 12,6 cm più 28 cm. Il totale è 71,6 cm. Un'altra figura che è possibile scomporre individuando dei triangoli rettangoli e il trapezio, protagonista del prossimo esercizio. In questo caso il trapezio è isoscele, trapezio che ha la caratteristica, lo ricordiamo, di avere i lati obliqui congruenti. Di questo trapezio conosciamo il perimetro e la lunghezza delle basi e dobbiamo calcolarne l'area. Per calcolare l'area di un trapezio, ricordiamo la formula, abbiamo bisogno delle due basi, la maggiore e la minore, le abbiamo, ma anche dell'altezza, che non conosciamo. Quest'ultima possiamo individuarla tracciando la perpendicolare dal punto C alla base maggiore. Il segmento CH è l'altezza e, cosa che ci servirà più avanti, CHD è un triangolo rettangolo. Per trovare CH, cateto di CHD, dobbiamo per prima cosa calcolare HD e CD. Vediamo come fare. Tracciamo anche la perpendicolare che da B arriva alla base maggiore, individuando il segmento BE. BC è congruente a EH, perché lati opposti del rettangolo BC e H, e AE è congruente ad HD, perché il trapezio è isoscele. Allora, sottraendo alla base maggiore la base minore, si ottiene il doppio del segmento HD. Per trovare HD, ci basterà allora sottrarre le due basi e dividere per due. Sostituiamo le misure delle basi, facciamo il calcolo a numeratore e poi dividiamo per 2. HD è uguale a 7 centimetri. Per trovare CD, invece, dobbiamo ragionare sul perimetro. Infatti, AB è congruente a CD, perché entrambi sono lati obliqui di un trapezio isoscele. Allora, sottraendo al perimetro le misure delle basi, si ottiene il doppio del lato CD. Di conseguenza, per calcolare CD, dobbiamo sottrarre al perimetro le due basi e dividere per due. Sostituiamo le misure di perimetro e basi, facciamo i calcoli a numeratore e poi dividiamo per due. CD è uguale a 25 centimetri. E una volta trovati HD e CD, possiamo calcolare l'altezza CH, applicando il teorema di Pitagora al triangolo CHD. CH, cateto, è uguale alla radice del quadrato dell'ipotenusa CD meno il quadrato dell'altro cateto HD. Facciamo i calcoli. Sostituiamo le misure, calcoliamo i quadrati, facciamo la sottrazione e poi calcoliamo la radice. La radice di 576 è 24. Quindi l'altezza del trapezio misura 24 centimetri. Trovata la misura dell'altezza, possiamo adesso ricavare l'area del trapezio, usando la nota formula che abbiamo ricordato anche in precedenza. Somma delle basi per altezza diviso 2. Base maggiore, base minore e altezza sono rispettivamente AD, BC e CH. Sostituiamo nella formula le loro misure, semplifichiamo 2 e 24 dividendoli per 2, sommiamo 30 e 16 ottenendo 46 e infine facciamo la moltiplicazione per trovare l'area di questo trapezio. Il teorema di Pitagora trova tantissime applicazioni ed è uno dei fondamenti della matematica. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like al video e vi auguro un buon proseguimento e un buono studio.